La vittoria di Yannick Sinner a Torino è stata storica, ma il vero colpo di scena è avvenuto fuori dal campo. Sapete cosa ha fatto la sua fidanzata Anna Kalinskaya mentre lui trionfava? Resterete senza parole. Scopriamo cosa si cela dietro questa storia che sta facendo il giro dei social. Oggi parliamo di Yannick Sinner, il campione che ha appena conquistato le ATP Finals di Torino, ma il suo trionfo sportivo è stato oscurato da un clamoroso gesto della fidanzata Anna Kalinskaya. Che cosa è successo davvero? Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più calde e a lasciare un like per supportare il nostro lavoro. Grazie! Yannick Sinner ha scritto un capitolo storico per il tennis italiano conquistando le ATP Finals 2024 di Torino. L'Azzurro, attuale numero uno al mondo, ha superato con grande stile lo statunitense, numero 5 del tabellone, in una finale mozzafiato. Una performance che ha confermato il momento d'oro della sua carriera. Ma, mentre i riflettori erano puntati sul campo, fuori dal rettangolo di gioco si accendeva un'altra storia, questa volta personale, che ha lasciato tutti senza parole. Mentre Sinner trionfava, accanto a lui mancava un volto familiare, Anna Kalinskaya, sua fidanzata. Secondo quanto riportato dai media, la tennista russa non era presente a nessuna delle partite del campione italiano durante il torneo. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e agli esperti di gossip. Come se non bastasse, mentre Sinner combatteva in campo, Anna condivideva su Instagram momenti di una cena con alcune amiche. Un comportamento che ha scatenato domande e ipotesi. Cosa sta succedendo tra i due? Le voci sulla crisi sono esplose quando gli utenti dei social hanno notato un gesto clamoroso. Anna non segue più Yannick su Instagram e, stando ai media russi, avrebbe addirittura bloccato il tennista. Anche lui non segue più lei, un segnale inequivocabile che qualcosa non va. Molti ipotizzano una rottura dovuta ai rispettivi impegni professionali, ma altri sostengono che la causa possa essere una questione di gelosia o tensioni personali. Quello che è certo è che Anna ha scelto di essere altrove in un momento cruciale della carriera di Yannick, una decisione che ha fatto discutere. E voi cosa ne pensate? Credete che si tratti solo di una crisi passeggera o di una rottura definitiva? Scrivete la vostra opinione nei commenti. I social media si sono infiammati. Alcuni fan si sono schierati con Sinner, sottolineando la sua dedizione e professionalità. Mentre altri hanno difeso Anna, ipotizzando che potesse avere motivi personali per non partecipare. I commenti spaziano da parole di sostegno per Yannick a critiche pungenti nei confronti della fidanzata. Molti si chiedono se ci siano dettagli che ancora non conosciamo e che potrebbero cambiare la prospettiva. Il giovane campione ha dimostrato di saper gestire la pressione, ma come influisce una situazione personale così delicata su una carriera ai massimi livelli? Nonostante le voci di crisi, Sinner ha mantenuto una concentrazione impeccabile, regalando ai fan uno spettacolo straordinario. Tuttavia, il tennis è anche un gioco mentale e situazioni di questo tipo potrebbero avere un peso. Sarà interessante vedere come Yannick affronterà i prossimi tornei e se i due riusciranno a chiarire la loro situazione personale. In definitiva, la storia di Yannick Sinner e Anna Kalinskaya ci ricorda che anche i grandi campioni sono umani e vivono situazioni personali complesse. Cosa possiamo imparare da questa vicenda? Che la resilienza e la concentrazione possono portarci lontano anche quando il cuore vacilla? Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Lasciate un like e condividete il video con i vostri amici per continuare la conversazione. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima storia su Notizie Livestream!